Ciao, ciao, sei bella tu? Sì, sei proprio cara. Un po' più indietro, andiamo, brava. Ok, va di là, questo punto vai di là. Chi c'è? Stai guardando il cane. Che impugnata. Stai guardando il mio mare. Chi guardi? Chi? 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 Vai, 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 vai. Stai impegnata, eh? Stai impegnata, eh. C'è il gnomo là in azione. Nano malefico. Hai riuscito a prima, non è niente. E' bello. Andiamo, andiamo, andiamo. Facciamo una massigione. No, sei seduta. Ho detto, no, voglio stare seduta. Al sole mi devo abbranzare, vedi che ti sei già rustionata il naso. Sì, c'è il naso. Andiamo, eh? Eh, brava, forse di là è più facile. Sofì. Mi raccomandiamo la stagione. Ho detto, e si fa tempo di acqua. Sì, si metti un po' d'acqua. Meglio. E non si faccia di? No. Ne sono... E se c'è sete? Eh. Ma è fredda? L'hai presa adesso? L'ombra è lì, sta bevendo. Tutto a posto? Buongiorno. Vieni! Vieni, vieni! Una vantaduta? Eh? Una vantaduta? Sì! Andiamo, andiamo. Una passeggiatta. Ma, per i stampi di capirà... Me la volete prendere? Eh, che ti faccio operare. Perché che ti è? Che ti è piagato.